Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare l'obiettivo, il codice di ala in Battletoads. Andate su Riconoscimenti e durante lo scorrimento dei titoli di cota dovete premere i tasti in sequenza, come vi riporto nella descrizione e come vi dico nel video. I tasti da premere sono giù, sinistra, a, sinistra, a e sbloccherete l'obiettivo. Quindi giù, sinistra, a, sinistra, a. È molto semplice come combinazione ma se non ve la ricordate ve la riporto nella descrizione del video.